E mi ha detto potrei farlo anche, ha già detto che poi fa male, e gli occhi parlano chiaro, in più delle parole, tutti i nostri pensieri che ci staccano e ci fanno parlare. Due minuti di un amore si intrecchiano, più di una vita con le cambiate. Cambiare a vero non ti serve a niente, le città e stanze sono con te uguali, quando si accida i miei ricordi, quando è per amico il mondo è troppo flat, e non puoi fare di più. La mia donna è nel suo tempo migliore, troppo il nesso che non è più. La mia donna è nel suo tempo migliore, c'è la mia donna, e capisce che senza nostalgia, tra i tempi erano sbagliati, potessi rinnovare, potessimo rifare. Grazie. Grazie a te. Grazie a te. E' un piacere cantare il pubblico per me, è un piacere Signore, il pubblico di questo video è sulla nostra pagina D'Arnaviosi, signori e lo sposo di questa sera franco, 40 anni